Ambrosioio sinceramente mi sembra la persona più adatta per la sua storia personale, per la storia della sua famiglia, per il valore in cui crede. Nelle Maroni ha fatto il ministro degli interni. Io faccio fatica a dimenticare che mentre lui era ministro degli interni, per esempio, in un comune della regione Lazio, a Fondi, che doveva essere sciolto sulla base di un rapporto di 5.000 pagine del prefetto di Latina, non fu sciolto ed è uno dei primi casi, forse il primo, e il mancato scioglimento da parte di questioni dei ministri, il ministro degli interni vi avrebbe dovuto far sentire la sua voce con maggiore forza e sovrastare quella dei suoi colleghi di coalizione. Non vorrei che la coalizione che è attorno a Maroni possa di nuovo creare una condizione analoga.